Il buttero è l'uomo a cavallo che accudisce il bestiame allo stato brado. Il cavallo è quello mare in mano, adatto alla fatica della palude che ricopriva questa zona. Le bestie che il buttero gestisce sono tori e vacche. Le vacche sono un po' diaboliche con quelle lunghe corna. Le puoi vedere nei quadri che sono in mostra. Nota come sono i vestiti i butteri, i pantaloni infilati negli stivali, le giacche di fustagno e i larghi cappelli, che fanno da scudo ai ruovi, alle piogge battenti e alla polvere. La giornata del buttero inizia all'alba, sia d'estate che d'inverno. Ogni buttero ha a disposizione tre o quattro cavalli, tra cui scegliere in base a cosa deve fare. Inizia sempre con un giro di ispezione di tutto il bestiame, per vedere lo stato di salute degli animali, per controllare gli stecconati e gli api feratoi. A fine febbraio inizia a portare le vacche che devono figliare nei pascoli più ricchi. Quando i vitelli nascono, scrive le caratteristiche di ognuno e gli dà il nome. Ogni anno hanno un nome con la stessa lettera iniziale. I vitelli Giulio, Guido, Galileo sono nati nello stesso anno. A maggio vengono marchiati, durante una bella festa denominata Merca. A dicembre i vitelli vengono separati dalle madri, ma all'inizio non troppo per non farli soffrire. È tutto uno spostare bestiame per scegliere il pascolo più giusto. È un lavoro molto duro. Una lunga giornata a cavallo, dall'alba al tramonto, tra i freddi venti invernali o al calore delle torri delle giornate estive, in una terra selvaggia e difficile, in quella che, anti di un tempo, definivano Maremma Mara. Nei miei quadri, tutti dipinti a olio, con la tecnica degli antichi maestri del paesaggismo fiorentino, spero di averti portato un po' a spasso a vedere il parco della Maremma come ogni giorno lo vedono i butteri. Grazie di aver visitato la mia mostra. Se hai domande da farmi, scrivimi o telefonami. Ciao da Mauro Mannelli.